Vittoria bella perché essenziale e meritata per il Bitonto sul prato fasullo dello stadio Paudice di San Giorgio a Cremano, coi palazzi variopinti tutti intorno aggrappolati come solleva un tempo. E lo fa, il Bitonto, da grande squadra. Tiene il pallino del gioco, segna il gol del vantaggio e congela la gara. A casa dell'indimenticato genio partenopeo del Postino, sotto un allegro sole primaverile, M. Claudio De Luca si fa ancora una volta beffe della forisma squadra che vince e non si cambia e presenta ogni comprensivo turitto esterno alto al posto di Santoro. Per il resto ecco i dieci che hanno schienato il Molfetta. L'Onoce a coprire i sette metri fatidici, Guardiani centrali Petta e Lanzolla, Guarnacce e Lacasse a settare sulle fasce, in mezzo il collaudato duo Piarulli-Addae, con quest'ultimo sempre più irrinunciabile. Avanti l'immaginifico Taurino e il provvidenziale Danna, alle spalle del simbolo Lattanzio. Il tecnico Salvatore Ambrosino, speranzoso nel pocherissimo di successi, schiera fra i pali Bellarosa, Guarino Cassese e Sepe a presidio della difesa, sulle corsie laterali De Siena e Bozzaotre, con Di Pietro, Nava e Sergento. La coppia Varela-Mancini in attacco. L'incipit del match è una tempesta nero-verde, contropiede vertiginoso condotto da Petta al quarto, cuoio a Danna che imbuca per Lattanzio, schermato da Bellarosa, in stoica uscita. 60 secondi e corner perfido dell'undici ex fermana, l'estremo di casa si inarca e sventa. Minuto 13, rimessa laterale oblunga di Danna, incornata dal capitano di poco fuori misura. 21esimo, doppio tentativo di Danna pure con artistica rovesciata, poi Mancino di Ricchi sporcato dalla difesa e bloccato da Bellarosa. Alla mezza, percussione irresistibile di Guarnaccia e parabola insidiosa, De Siena freddo salva di petto. 5 minuti e magia di Taurino, il sinistro è però impreciso di un non nulla. Ancora 5 primi e destro mal destro di Danna, che poteva tesaurizzare meglio la ripartenza. Nella ripresa, i sangiorgesi sembrano partire col piglio giusto, con un rasoterra mozzafiato di De Siena, che taglia come un brivido l'area bitontina. Tuttavia, seguirà una rassicurante parentesi di splin calcistico, fino al minuto 25, quando i leoncelli si prendono la gara d'autorità. Guizza Santoro sulla destra e sforna un invito millimetrico per Danna, che addomestica la sfera e con un collo pieno abbacinante la spedisce nel 7. Poco dopo la mezz'ora, piazzato dalla tre quarti e zuccata troppo robusta di Petta. 60 secondi appare più che avventuroso il destro timido di Di Pietro. La botta di Varela al 37esimo viene murata dal salgariano Petta. Al tramonto della sfida, doppio giallo e dunque rosso per Piarulli, che finisce anzitempo negli spogliatoi, lì dove lo raggiungerà il Granata Mancini, per la medesima ragione. Gli uomini del presidente Francesco Rossiello, grazie al mezzo passo falso altamurano del Cerignola, riassaporano l'ebbrezza della vetta e si preparano al cimento trappola di domenica prossima col Nola.